Il progetto di legge è semplice nella sua formulazione, tanto semplice quanto importante verso il mondo delle partite IVA. Di fatto prevediamo la istituzione dello sportello digitale che possa essere strumento di formazione, informazione e di orientamento per questo mondo e per questa categoria. La norma è una norma aperta, mi piace definirla in bianco, sulla quale io spero che tutto il Consiglio regionale possa dare il proprio contributo. I prossimi step saranno certamente quelli di raffinare questo progetto di legge, magari anche robustendolo di un contributo finanziario per promuovere queste attività, di cui provvederemo alla presentazione del progetto e inizierà l'iter di approvazione nell'ambito del Consiglio regionale.